Ciao sono Luca di Mr. Gadget, sono pronto a parlarvi di uno dei prodotti più interessanti del mercato l'ho provato a lungo dal giorno della sua presentazione fino ad oggi sono pronto a raccontarvi tutte le mie impressioni sul nuovo Galaxy Z Flip e allora vediamo da vicino questo Galaxy Z Flip che mi è piaciuto molto nella prova di tutti i giorni pur con qualche limitazione che poi andremo a vedere bello il display che quando lo aprite al 100% vi dà quasi la percezione di un telefono che non sia nemmeno un telefono pieghevole a differenza della sensazione di fragilità e anche questa cosa di vedere le pieghe sul display che capita con il Motorola Razor invece con lo Z Flip questa sensazione non si ha certo la piega si vede e come ma poi torniamo a parlare vediamo intanto l'aspetto allora sulla parte esterna il controllo del volume ovvero volume rocker il pulsante di accensione dalla parte opposta invece il cassettino per la nano sim non c'è espansione di memoria poi c'è la possibilità di utilizzare la embedded sim sempre all'esterno avete la doppia fotocamera due sensori da 12 megapixel il displayino che qua vedete 1,1 pollici di diagonale poi vedremo tutti i dettagli tecnici anche di questo display ovviamente da questa parte avete il caricatore che è usb type c ma c'è anche la ricarica wireless l'altoparlante e poi vedete la parte opposta alla cerniera con il marchio samsung cerniera che fa un lavoro per cui quando voi aprite il telefono vedete la cerniera va a toccare le due parti vanno a toccarsi mentre con il Motorola ad esempio mantengono un certo tipo di distanza quando voi chiudete il telefono vedete la piega è sicuramente accentuata anche per il lavoro che fa questo telefono vedete la cerniera piega il display e poi rimane una leggera una leggera fessura che tra l'altro fa passare anche un po' di polvere quando avete il telefono in tasca ci sono dei fermi in gomma sui bordi del telefono che servono praticamente per quando il telefono si chiude abbiamo detto comunque un prodotto molto interessante quando voi aprite questo display dynamic amoled flessibile avete 6,7 pollici di diagonale con 100,1 cm quadrati di superficie 82,5 per cento screen to body ratio è una percentuale una definizione 1080 per 2636 pollici la densità di questo display è interessante siamo a una densità di 425 pixel per pollice allora si è discusso molto vetro plastica plastica vetro allora c'è un sottile strato di vetro che è ricoperto da materiale plastico mentre il resto del telefono è rigorosamente vetro con gorilla glass 6 abbiamo detto display esterno 1,1 pollici di diagonale 112 per 300 pixel in questo caso è un display super amoled ma come funziona questo display? allora intanto diciamo che quando il display vi mostra le notifiche avete vedete un pulsantino quando sono arrivate delle notifiche al vostro telefono potete una volta vista la notifica cliccare su questa notifica adesso ce la farò prima o poi vedete vi arriva essenzialmente la notifica potete con questo scrolling sul display vedere la notifica che è arrivata cosa succede quando arriva una telefonata ve lo mostro immediatamente quando arriva una chiamata e avete il telefono chiuso avete il nome del chiamante se è memorizzato vedete potete scegliere se rispondere alla telefonata oppure se volete buttare giù la chiamata per dirla insomma in italiano sentite adesso premendo un leggero eco l'eco che sentivate era quello della chiamata che era in corso che adesso è terminata se premete due volte sul tasto di accensione attivate anche la camera principale con cui potete scattare una fotografia diciamo che non è utilissima il mirino poi così piccolo non aiuta tantissimo però diciamo che la funzione c'è e la potete sfruttare allora apro il telefono e arriva come detto il display dynamic AMOLED da 6,7 pollici l'interfaccia è quella che conosciamo bene c'è la One UI in questo caso però nella versione 2.0 rimangono dei punti di forza io fra tutti vi faccio vedere ad esempio l'editing dei video molto ben fatto comodo ma assomiglia molto a quello di iPhone potete anche fare un'altra cosa ad esempio che era già stata introdotta con la One UI selezionate più video e create la produzione in pratica di un video che mette insieme i tre pezzi vedete che voi avevate realizzato solo alcune delle funzionalità che avete sul vostro prodotto vi sottolineo però un dettaglio allora la tastiera tastiera molto comoda molto ampia ma io come vedete ho cambiato la mia tastiera rispetto a quella originale Samsung ho cambiato questa tastiera originale Samsung con quella di Google per un motivo molto preciso perché adesso voi non vedete il pulsante per dettatura vocale perché è qui in alto ma essenzialmente il riconoscimento vocale di Samsung è veramente di basso livello non ci sono scusanti in questo nel senso che non funziona proprio come dovrebbe spesso sbaglia le parole di fermate solo un secondo e la dettatura viene interrotta diciamo che da questo punto di vista Samsung deve veramente inseguire perché sul fronte del riconoscimento vocale ha veramente un gap molto forte sia con Google che con Android la fotocamera allora intanto con due sensori entrambi da 12 megapixel cambia l'apertura uno è apertura 1.8 l'altro è apertura 2.2 poi 27 mm per il sensore principale e invece 12 mm per il grandangolo beh la fotocamera ha un miliardo di funzioni di opzioni che avete a disposizione a partire dal fuoco live il video fuoco live super slow motion rallentatore hyperlapse quindi le funzioni a cui noi siamo abituati qualità della fotocamera secondo me buona il video video molto ben fatto bisogna dire che i video hanno una stabilizzazione con il sensore principale tanto c'è una stabilizzazione ottica funziona veramente alla grande cioè la qualità della stabilizzazione è davvero ottima potete scegliere il formato con cui voi girate potreste anche scegliere come avete visto solo per un attimo anche il formato che prende l'intero display cioè 22 noni io tendo invece a preferire sempre i 16 noni vi ho già fatto notare più volte che una delle cose curiose di questo telefono è il fatto che ad esempio possiate utilizzarlo come mirino per la vostra fotocamera come treppiede quasi no appoggiate su un tavolo potete scattare foto e girare video questa soluzione questa personalizzazione del software è presente anche per altre funzioni ad esempio vedete se prendo una foto che a livello nativo diciamo occuperebbe quasi tutto il display quando io piego lo schermo riesco a visualizzare su una metà e poi ad utilizzare anche l'altro pezzo di display come touchpad per muovermi all'interno della mia galleria e questo ci porta ad un altro dettaglio quello ovvero della posizione del telefono che vedete può essere veramente qualunque cioè il telefono rimane aperto in qualunque posizione a parte quando il peso poi spinge per portarlo verso il basso quindi essenzialmente questa è la comodità del telefono che volendo potete anche utilizzare in questo modo volevo mostrarvi anche un altro dettaglio cioè il fatto che quando voi utilizzate il telefono in orizzontale tutto sommato non avete la percezione anche di debolezza c'è una solidità in quello che voi utilizzate e c'è da dire che insomma il rapporto 22 noni tutto sommato si lascia delle barre laterali ma che non sono particolarmente fastidiose voglio farvi sentire l'audio allora complimenti a Samsung per l'audio di questo telefono qualità veramente ottima un suono tra l'altro piacevole una buona quantità di bassi tenendo conto che stiamo parlando sempre di un telefonino quindi qualità dell'audio in viva voce ottima quando siete in conversazione e siete in HD voice ancora una volta qualità di conversazione veramente sublime da questo punto di vista non si può dire assolutamente niente a Samsung facile la gestione delle schede invece delle reti quando dovete utilizzare essenzialmente un operatore virtuale vedete potete muovere e aggiungere i profili al vostro telefono in modo veramente molto molto semplice basta inquadrare il QR code per quanto riguarda il vostro operatore vedete aggiungete piano tariffario potete farlo nel giro di pochissimi secondi adesso in questo caso nessun piano trovato perché sto usando una sim tradizionale ma si è visto anche il numero di telefono ma tanto questo numero di telefono si è visto un milione di volte intanto non rispondo mai però insomma avete visto una gestione del telefono completa ma allo stesso tempo semplice perché io credo che One UI sia veramente la migliore interpretazione di Android oggi in circolazione mi manca la batteria, batteria che insomma è di buon livello siamo a 3300 mAh con ricarica wireless a 15W tutto sommato una batteria che vi porta alla fine della giornata senza grandissimi patemi d'animo difficile fare più di un giorno con una carica della batteria trovo che sia un oggetto che da questo punto di vista è molto ben bilanciato non vi ho detto prima un paio di dettagli scusate mi sono dimenticato della fotocamera frontale da 10 megapixel sia le fotocamere principali che la fotocamera frontale girano filmate in 4k 30 frame al secondo in questo caso 60 frame al secondo invece con la fotocamera principale insomma un oggetto molto bello non c'è nulla da dire bello, solido, gradevole ecco l'unica cosa è l'effetto sogliola dovete stare attenti perché dovunque voi lo appoggiate quando lo prendete in mano l'effetto saponetta è devastante il rischio di caduta è sempre dietro l'angolo meglio utilizzare la cover che trovate dentro la confezione io trovo che questo sia un oggetto veramente veramente bello ma ho una considerazione finale per voi questo dunque è un prodotto molto interessante ma al di là delle caratteristiche tecniche al di là del vetro o della plastica al di là delle considerazioni sul confronto con il Motorola Razor bisogna chiedersi questo movimento di aprire e chiudere il telefono ogni volta che si deve fare qualcosa con il proprio smartphone nel lungo periodo è un'azione facile da sostenere credo che questa sia la domanda più importante a cui rispondere prima di decidere se valga la pena acquistare o meno il Galaxy Z Flip prodotto molto bello, approvato da Mr. Gadget ma il dubbio rimane comunque sempre presente grazie a tutti